Ciao ragazzi, allora è finita la partita, volete raccontarci qualcosa, commenti a caldo, vi siete divertiti? Sì, sì, è stata una bella partita equilibrata, anche se è finita in G7, però merito ai vincitori, sono più bravi di noi. Io sono andato in ritardo, mi scuso, ma ho avuto i problemi lavorativi, però ci siamo rifatti, siamo rifatti su, ci siamo divertiti, è bello, abbiamo capito le dinamiche, una volta capito si diverte. Se ci sarà un ritorno, facciamo la rivista. Voglio dire una cosa, Trecana, Alessio Paolillo ti sta aspettando. Va bene, direi che qui ne abbiamo detto tutto, vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie.